blu la casa dei giochi ciao bimbi io sono blu ed oggi ho deciso di colorare insieme a voi questo personaggio lego lo avete riconosciuto? sì è superman! dai coloriamolo insieme questa volta ho deciso di usare i pastelli guardate che bell'effetto che possiamo dare a presto! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.